il corso blend dell'odontoiatria incontro all'osteopatia a secondo livello il dolore orofacciale si divide in due parti una teorica online e una pratica in presenza nella parte teorica facendo riferimento alla letteratura scientifica si presenta la complessità del dolore cranio orofacciale descrivendo nella classificazione internazionale le caratteristiche cliniche salienti e il management di tutte queste problematiche viene approfondita l'anatomia fasciale della regione cranio oro cervicale dei nervi cranici del sistema linfatico del distretto orofacciale nozioni che sono essenziali per la comprensione dell'approccio osteopatico con tecniche specifiche nella parte pratica vengono descritti e mostrati i test le tecniche i ragionamenti clinici per la gestione dei pazienti con dolore cranio oro cervicale nello specifico i discenti impareranno tecniche fasciali e linfatiche nell'area craniale buccale cervicale oltre che tecniche specifiche sul percorso dei nervi cranici di nostro interesse il corso è aperto a tutti gli odontoiatri gli osteopati e gli studenti di osteopatia che hanno già svolto il primo livello del corso odontoiatria incontro all'osteopatia sinergia per una terapia integrata gli obiettivi del corso sono permettere all'osteopata di avere conoscenze teoriche e tecnico manuali per la gestione del dolore cranio oro cervicale e pertanto migliorare e ampliare la collaborazione con l'odontoiatria e con altri specialisti gestire i pazienti e sensibilizzarli a diventare parte attiva al processo terapeutico grazie inoltre alle potenzialità della piattaforma di Accademia MIBES sarà facile interagire con i docenti e creare gruppi di studio e di ricerca Grazie a tutti.